Ristrutturato una decina di anni fa l'Anfiteatro di Giulianova torna a presentare ancora una volta i segni dell'inciviltà e della scarsa manutenzione. Il legno lamellare su alcuni gradoni si sta spaccando creando delle vistose fessure che in alcuni casi possono rappresentare un vero pericolo. Il materiale con cui è stata realizzata la struttura è danneggiato in più punti. La situazione tra le altre cose è destinata a peggiorare col passare del tempo se non ne si interverrà quanto prima. L'area si presta per l'organizzazione di eventi, appuntamenti musicali e piccole iniziative legate all'enogastronomia del territorio che soprattutto in estate si ripetono quasi ogni sera. È luogo di ritrovo per molti giovani che frequentano i locali della zona ma è anche oggetto dell'azione non solo del tempo perché purtroppo bisogna fare i conti con i soliti incivili che si divertono ad incidere il legno ad imbrattarlo con bombolette di vernice spray. Gli addetti alla manutenzione degli spazi pubblici inoltre spesso sono costretti a raccogliere bottiglie di vetro abbandonate o persino spaccate contro le travi di sostegno e ogni genere di rifiuti servono degli interventi risolutivi. In primo luogo l'amministrazione comunale che si insedierà subito dopo il ballottaggio in programma domenica prossima dovrà prendere in considerazione il problema e pianificare una serie di interventi per eliminare le parti danneggiate della struttura. Successivamente per scoraggiare i vandali andrebbero sistemate delle telecamere di videosorveglianza visto che l'area è comunque anche piuttosto frequentata essendo a ridosso del molo sud del porto giuliese.